L'avanzato del partito comunista italiano può far paura soltanto ai corrotti e ai trepotenti che esistono nel nostro paese. Dovrei dirvi che anch'io sono molto contento, come sono contento e fiero ogni volta che vedo che i comunisti fanno qualcosa di buono per il popolo e insieme col popolo. La questione morale, come noi la chiamiamo, non è una pregiudiziana nel senso che non implica che di tutte le altre questioni non si parla finché la questione morale non viene risolta, ma certamente è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi secondo me costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti, mettere fine cioè alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali, perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti. Per tanti milioni di giovani, di ragazzi ai quali questa società non offre sicurezza di vita, di lavoro, non offre ideali che non siano quelli dell'evasione, dell'individualismo, offre solo la prospettiva di essere la rotella di un ingranaggio che funziona soltanto per favorire la prepotenza, il privilegio. La corruzione. Vediamo una società nuova che abolisca questi privilegi. No, noi la creiamo giorno per giorno. Crediamo una società socialista che corrisponda alle condizioni del nostro paese, che rispetti tutte le libertà sancite dalla Costituzione, che sia fondata su una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali. Una società che rispetti tutte le libertà meno una. Quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e renderà. Ma è anche una battaglia, come dimostrano le proposte del sindacato, con il ricalamento dell'azienda, e anche una battaglia nell'interesse di tutti i lavoratori italiani, che vogliono che i nuovi licenziamenti della FIAS, sia un nuovo licenziamenti che si pensa di fare in altre città e in altre regioni, e una battaglia nell'interesse di uno sviluppo nuovo. non può accettare questo ricasso, questa prepotenza, che la FIAS vuole imporre con i licenziamenti a Torino, il suo arbitrio, il suo potere di comando, annullare le conquiste che i lavoratori hanno strappato nel corso degli ultimi dieci anni, con tante, dure e vitoriose notte. E in Italia sappiamo cos'è stato il fascismo. Non solo la soppressione di ogni libertà, non solo lo sfruttamento dei lavoratori, non solo la miseria, l'abbandono delle regioni meridionali, l'asservimento al nazismo, il massacro dei comunisti, prima di tutto fra pochi giorni cade l'anniversario della morte del nostro capo Antonio Gransci, assassinato scientificamente dai fascisti, di partigiani, di giovani, che si oponevano al fascismo, il ferro dello straniero, che difendevano la libertà e l'indipendenza nazionale del nostro paese. La democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista. Ciò che è avvenuto in Polonia ci indice a considerare che effettivamente la capacità propulsiva di rinnovamento delle società, o almeno di alcune delle società che si sono create nell'est europeo, è venuta esaurendosi. Non può essere libero un popolo che oprime un altro popolo, scriveva Carlo Marx. Una formazione che potrebbe essere paradrasata in questo modo, non può essere libero un uomo che oprime un'altra cosa. che queste nuove tecnologie possano essere usate dall'uomo a scopi di libertà, di liberazione, di elevamento culturale e soprattutto a scopi di pace. E per questo bisogna opporsi con tutte le nostre forze a che siano invece usate come strumenti di morte, di distruzione, di mortificazione della personalità dell'individuo. Le nuove tecnologie sono aperte a questi due usi diversi, opposti, che prevalga l'uno o l'altro uso dipende da noi, dipende dagli uomini, dipende dalla forza organizzata del nostro popolo come di tutti i popoli. Da questo punto di vista non mi è accaduto e questa la considero forse la più grande fortuna della mia vita, di seguire quella famosa legge per cui si è rivoluzionari a 18 anni, a 20 anni, poi si diventa via via liberali, conservatori, e reazionari. Io sono un serbo dei miei ideali di allora. Quindi io adesso dopo questo discorso che vi hanno dato vi presento appunto un poeta della nostra epoca che insieme a Pasquale e Gozzano è riuscito a rilanciare il lirismo nella politica e nello spirito dell'uomo che in un'epoca materialista come la nostra si è andato perdendo e poi mi ripeto in un discorso più grande di me che adesso vi presenterò l'onorevole Enrico Beniguerre vero comunista garantito comunista garantito io vorrei prendere un collo ma lui non si farà prendere sarebbe il mio sogno prendere il collo con le guerre grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.